Nuovo importante impegno in campionato per l'Atalanta che giocherà la sua prima trasferta del mese di febbraio a Luigi Ferrari, sospite del Genua. Squadra neopromossa quella rosso-blu che si sta ben comportando in questa sua stagione di rientro in Serie A. Certo, sarà un'altra partita dura con un campo tosto, caldo e calcio così. Ti godi un giorno una vittoria ma poi si aspettano altre gare perché adesso inizia il campionato vero perché iniziano tantissime partite in mezzo c'è Europa, c'è dopo Coppa Italia, quindi sarà un bel tour. Bisogna essere pronti, bisogna stare bene fisicamente e cercare di continuare in questa strada. La prossima settimana si giocheranno le gare di andata degli spareggi di UEFA Europa League. L'Atalanta resterà alla finestra ad osservare avendo staccato il pass diretto per le ottavi di finale. Dalle partite che si disputeranno il 15 come detto gara di andata ed il 22 ritorno ci sarà l'avversaria dei Nerazzurri del 7-14 marzo. Mario Pascialic a riguardo è pragmatico. Vediamo, adesso si giocano quegli scontri, vediamo chi ci aspetta ma è un po' lunga arrivare a queste partite perché ci aspettano 4-5 di Serie A quindi bisogna concentrarsi sul campionato adesso. Grazie a tutti. Grazie a tutti.